Ciao, sono Clizza Leone, ho 25 anni e sono laureata in Scienze Tecniche Psicologiche. Sono una ragazza dinamica, molto ambiziosa, solare e, soprattutto, attratta da tutto ciò che è di tendenza. Quattro anni fa scelsi il mondo di Instagram per esprimere al meglio la mia passione per la moda, quella che mi ha distinta fin da bambina. Ed ora, grazie ad un costante lavoro e, soprattutto, grazie a voi che mi seguite ogni giorno, organizzo la mia giornata tra appuntamenti beauty, shooting ed email. In questo modo sono sempre in contatto con importanti aziende e partecipo alla realizzazione di nuovi progetti e campagne e lancio ogni nuovo prodotto. non posso nascondervi, però, che tutto è iniziato per gioco e, soprattutto, senza essere a conoscenza delle vere potenzialità di questo session. Oggi, invece, il lavoro di influencer riempie le mie giornate di entusiasmo e soddisfazione. Vi aspetto in questa nuova avventura. Baci, Clizza.